buongiorno scomponiamo il seguente polinomio x y alla quarta più 2 y alla seconda più x notiamo che i tre termini del polinomio hanno in comune la x quindi posso raccogliere la x quindi avremo x che moltiplica y alla quarta più 2 y alla seconda più x fratto x è uguale a 1 quindi più 1 riportiamo la x e notiamo che y alla quarta più 2 y alla seconda più 1 è un quadrato di binomio in quanto y alla quarta è il quadrato di y alla seconda 1 è il quadrato di se stesso mentre 2 y alla seconda è il doppio prodotto quindi facciamo la radice quadrata di y alla quarta y alla seconda i segni sono tutti positivi quindi il segno sarà più e la radice quadrata di 1 è 1 quindi più 1 tutto elevato alla seconda verifichiamo che questo sia effettivamente un quadrato y alla seconda alla seconda è uguale a y alla quarta 1 alla seconda uguale a 1 e il doppio prodotto è 2 per y alla seconda per 1 quindi 2 y alla seconda bene per il momento è tutto arrivederci al prossimo video